Mi chiamerei intanto il Banco Popolare. Chi viene? Bene, Riccardo. Vieni, Riccardo. Proprio una battuta, una battuta attesa. Il nostro accordo è datato quanto la nascita di Auxilia. Era già fatto più o meno con il decreto legge 141. Mi ricordo che fu una cosa abbastanza nuova. Buonasera a tutti, un saluto velocissimo. Intanto una piccola testimonianza. Se siete preoccupati, ho sentito all'inizio per il maltempo, tenete presente che io ho conosciuto Fiai, parlato a Urmina, questo era il 2009, e lì di maltempo ne abbiamo visto parecchio. Ho visto un po' di persone in sala che c'erano quel giorno insieme a noi. Una cosa voglio dire, vista da fuori. Voi avete la fortuna, diciamo, di vederla da dentro, da soci e da proprietari di Auxilia. Vista da fuori, vista dalle banche, Auxilia è un valore, è un valore importante. Io spero che questa cosa che francamente tanti vi invidiano, perché è una società di mediazione molto ben gestita, molto efficiente nell'operatività e soprattutto molto stimata sul mercato, stimata dalle banche e invidiata anche dai concorrenti. Io spero che questa cosa sia una cosa molto riconosciuta anche all'interno, perché è un grande valore di Auxilia e anche la possibilità di collaborare col mondo degli agenti immobiliari. Io penso che più voi riuscirete in futuro a realizzare questa cosa in maniera efficace e più sarà un successo per Fiai e un successo per Auxilia. Grazie ancora dell'invito e buona serata a tutti. Grazie Riccardo.